Il piccolo Gabriele sta facendo il pisolino e Clizia si può concedere il massaggio settimanale. Qualcuno mi diceva le regole, le dettate voi, infatti adesso sta facendo in realtà il pisolino e io mi concedo il mio massaggio. No, è vera questa cosa che devono incastrarsi alla nostra vita. E adesso vi racconto un po' tanto quello che sto facendo, tanto ho dormito tre ore, almeno procediamo col massaggio, con la mia desideria e ve lo racconto. Ecco, adesso mi sta raccontando praticamente, quindi sul corpo facciamolo verso la giornata franca che mi ha permesso di mantenermi super mega drenata. Io veramente non ho mai avuto le gambe così magre come oggi, mi diceva pure ieri una mia amica giornalista che un po' chiacchieravo. Mentre sull'addome, ecco, mi sta rientrando un sacco, veramente tantissimo, oggi sono al nono giorno dal parto, faremo questo massaggio Manuela Sciala, che è veramente una bomba. Clizia si deve attenere agli orari del piccolo Gabriele, comunque già tanto riesce a fare il massaggio. Clizia si deve attenere agli orari del piccolo Gabriele